Salve a tutti amici e bentrovati, sono i vostri Mitterrier, eccoci qui per l'episodio di OpenAstral S4 di DLC Windsor Change. Oggi pronto a costruire una sfida che uno di voi mi ha succedito. L'utente in questione è Joseph Garoya che ringrazio e la sfida è quella di creare una repubblica pirata rispettando certe coalizioni a lui richieste. Per formare una repubblica pirata bisogna però seguire vari step. Il primo è scegliere ovviamente una repubblica e Joseph mi ha suggerito di scegliere una repubblica italiana che non sarà Venezia. Questo gioco è un fangheri, diciamo una cosa che ho fatto io per fatti me per un po' esplorare il Mission 3 e anche le nuove specifiche di Venezia ma la repubblica da scegliere sarà Genova. Secondo step, scegliere può di controllare una repubblica, una zona piratesca. Qui il gioco ci suggerisce, ci dà possibilità di formare delle repubbliche pirate sia nell'Africa che ai Caraibi e qui anche Joseph Garoya mi ha chiesto di formare una repubblica pirata nei Caraibi. Così per essere magari i pirati dei Caraibi. Per farciò quindi dobbiamo controllare una zona caraibica, spostare lì dal nostro capitale e dopo vari eventi far nascere la repubblica. Ma quali questi eventi? Come avvengono? Qua c'è l'ultimo step, il fondamentale, ossia quello di triggerare il Republic Tradition, ossia far abbassare il Republic Tradition a un certo punto finché non apparirà l'evento Buccaneers Pirate. Evento Buccaneers, l'evento dei Pirati che ci farà scegliere se rimanere una repubblica normale o diventare una repubblica pirata. Quindi, repubblica da scegliere, zona da controllare, spostare lì dal capitale e poi far abbassare la Repubblica che tradisce così tanto da arrivare al punto in cui l'evento scoppierà. Cosa fondamentale sarà ovviamente quello di non cercare di espalderci troppo perché spostare la nostra capitale dalla zona di controllo a zona coloniale non ci vuole una grandissima espansione territoriale. Per questo anche Genova fosse la migliore, non solo perché è più vicina a Occidente, quindi vicina ai Caraibi, ma anche perché avrà tre province in Italia e varie in Asia che forse andremo anche a vendere così per alledirci un po' del carico e togliere qualche nemico, togliere la lista di qualche nemico che vorrà ai nostri territori, per esempio la Crimea o gli Ottomani. E quindi i ragazzi partivano al Genova per poter arrivare alla fine ai Caraibi. Non so se sarà un video unico oppure più episodi. Sono indubbioso perché non so quanto tempo ci vorrà per farlo. Ho già fatto una sprova, ho fatto circa 6 episodi, provando a creare una miniserie, ma mi ero rovinato un po' di gaming in quanto mi è espanso davvero tanto in Europa. Poi quando ho spostato bene ai Caraibi ho subito cominciato a colonizzare, pensando che finché avessi poche province potevo non creare la spostata di capitale, mi sono stati a spostarla anche in una sola provincia. Ci ricordate che però nella madre patria, nel mare continente, anzi, mettiamo così, avessi meno province, molto poche. Quindi la troppa espansione è l'essere creato una colonia, in pratica mi stavo creando una colonia nei Caraibi, mi ha costretto a dover annullare tutto il gaming e ripartire da zero. Ora però ragazzi proviamo a fare questa cosa, proviamo a ricreare una repubblica pirata nei Caraibi e qui inizia l'assunto di oggi. Ma per iniziare vi ricordo sempre lasciate like, commentare, condividere, supportare serie e canale. Vi ricordo anche la possibilità di seguirmi su vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok così per sapere di più sul mio lavoro, con dei miei altri contenuti, in ultimamente offerti e partecipare alla termine attiva, avete il canale della community, da sondaggi, richieste e discussioni. Vi è anche la possibilità di abbonarsi al mio canale, tramite YouTube e ora per dare maggior panne su vari tipi di vantaggi, in cui mostreremo appunto questi vantaggi che sono peggio emoji. video che potete vedere prima, serie di cadere abbonati e quant'altro. Potete anche abbonarvi con Twitch, con Twitch Prime se lo volete, quindi domani per seguirmi e domani per supportarmi il lavoro, ma con benefit differenti ovviamente in base a quello che posso darvi attraverso il canale. Ultima cosa, c'è anche il link di affinazione in descrizione di Instant Gaming, in cui potete acquistare giochi nel sito a poco prezzo e così indirettamente supportare il mio canale senza uscire in una linea. Quindi è una cosa buona e giusta. Quindi ragazzi, avete tutto ciò che avete, avete tutto ciò che volete per poter supportare il mio lavoro e adesso iniziamo l'avventù di oggi. Quindi io spesso come sempre, vando alle ciance e che il nostro viaggio a benissimo. Let's go! Ed eccoci qui ragazzi a Genova, Genova che come pubblica marinara ha dei bonus sia maritmi e meno militari, ma già è un bene per noi che abbiamo cercato di spostarci navalmente verso l'occidente, quindi i bonus maritari sono più che accettabili. Andiamo a queste idee, le Genova veste che sono 3 deficienze di più 10%, meno 0.5 all'interesse anno e infine la grande idea sarà il naval maintenance e modifare il meno 20%, cosa buona per creare una grandissima flotta. Poi tra le idee che sono a sbloccare abbiamo il Renewating the Nation, con stabilità di costo meno 10% e core, anzi costo tu giusti fai, trade conflict meno 10%, una mola a nevi meno più 20%, un trade power abroad, sono messo male a parlare in inglese, 10% e national sales modifare più 20%. Galle di costo meno 33%, un national sales modifare più 10%, una forza limite modifare del 25% in più e infine una shipping building time inferiore del 10%, quindi molti bonus legati all'aspetto navale che posso dire per farlo una pubblica piratesca è cosa buona e giusta. Abbiamo anche i territori qui che sono in Crimea e in isole anatoliche, qui, isola di lesbo e di scio, e così qua potremmo anche cederle per fare in modo che gli ottomani non ci attacchino e neanche la Crimea o qualche altra regione, perché la Crimea non ci attaccherà, però diciamo solo meno provinciale o meglio è. Altra cosa che devo dirvi della sfida per poter spostare la capitale è che non posso farlo direttamente da Genova a Caraibi, cerchiamo di fare uno spostamento graduale da Tunisi, Marocco, fino ad arrivare a queste isole a te qui, anzi se cierei magari a vassalizzare queste isole a te qua sapere la cosa buona, quindi ora noi andiamo subito a prenderci un bonus ai punti mana amministrativi per bloccare subito le idee e andarci a pigliare almeno come prima cosa l'idea di scoperta, l'Exploration 3 Ideas che si dice la Quest for the New World e il Colonial Ventures, cerchiamo di essere molto veloci e di essere più veloci soprattutto di Castiglia, Aragona, Portogallo e Inghilterra che sono quelle più avvantaggiate su questa corsa, in questa corsa per le Americhe anche se loro non sa che sono Americhe Bene, fatto questo ragazzi, iniziamo un po' la questione della provincia della nostra Ducato, mettendo i rivali va bene Bisanzio, che tanto è un po' sparita va bene i Cavaliere di Rodi, che tanto ci vogliono bene e anche Siena, sì anche se però io non cercherò di... anzi non è Rodi, ah è Savoia no, scusami questi sono i Cavalieri, sì appunto perché non mi dà i Cavalieri? non me li dà, forse non ci arriviamo comunque, andiamo a cercare di farvi i punti possibili quindi andiamo a fare i vari stessi perché ti posso aiutare nella scoperta nel... avvantaggiarci nella scoperta dell'America e creare colonie e quindi ragazzi, ci vediamo dopo quando l'avevo fatto abbiamo scelto tutti i vari privilegi ok, ho fatto tante cose a me che avevo spento ma ve le rassumo facilmente abbiamo di tutto messo i soliti privilegi legati ai punti mana scontri gli advisor e poi hai le bonus sia di diplomatici ma anche di reform progress abbiamo messo gli advisor tutti scontati anche un pro relation che non è male abbiamo anche un advisor di militare buono che mi sono mamica da subito a inizio gaming poi se andate col papato visto che possiamo andarci facilmente con Inghilterra e Austria utili per scontarci con Aragona che è il rivale di Austria e anche la Castiglia che è il rivale d'Inghilterra che è il Portogallo per Portogallo magari sono cercati a girare hanno anche un drago con Marocco che è scena del 48 perché io vorrei fare una guerra con un stato africano per poter subito espandermi e quindi inizio a spostare la capitale se devo fare un spostamento graduale non dei botti che si può fare magari in Marocco se facciamo un'ottima cosa posso fare Clemio un poco no Clemence no non non Amor qui non Amor ok qui non c'è il raggio Tunisi Tunisi forse neanche però questa non posso fare Clemio senza che le non posso espandere mi sa che per rifare una guerra ad Aragona che a giro parte a Napoli se faccio quella ad Aragona a Napoli se ne è cilio proprio adesso non è facile guerra in Aragona vorremmo magari prenderci i cagli e poi prenderci magari Alicante proprio adesso non è questa idea comunque ragazzi adesso prima parliamo un po' tutte le carte in tavola avere due alleati forti come la nostra Inghilterra migliorare le nostre economie e cercare di fare più punti possibili e amministrativi per già sbloccare l'idea di esplorazione e fra il tempo alleggerire il carico di territori qui nella madre patria che sono questi qua in Crimea e così qua nelle isole e c'è quindi ragazzi fatto questo noi ci vedremo dopo ok è arrivato il rinascimento ed è a Mantua o è rinascente la città ma più vicino a noi meglio è Mantua è solo a una provincia è abbastanza vicino ma meglio Mantua forse che Venezia che Firenze intanto però pensate che Bistanza sia stata distrutta bene Saluzio di un nostro rivale noi siamo anche siamo già avanti con le tecnologie ormai siamo davvero messi molto bene ho fatto già la tecnologia amministrativa e allora ragazzi bellissime notizie io da 1950 non so come ho stato la registrazione ho fatto varie cose una guerra contro per fare poi i soldi ho venduto tutte le mie province qui tra loro ho anche riuscito come una città libera ma alla fine la Crimea si è apposta a me si è liberata da me e poi la torna l'onquista quindi meglio così abbiamo venduto i soldi con altre province forse di creare le city trade che è una meccanica che gioca interessante ma non tanto utile soprattutto quando sono troppo distanti da me abbiamo visto la frange che si è portata da Borgogna e ora hanno segnato la guerra a Tunisi provando a apriarci qualche territorio qui a Marocco per poter recolonizzare perché abbiamo fatto tante cose per migliorare la colonizzazione abbiamo ora un rage di 256 e questo qua sta quanto c'è scusa hour con un rage di 256 è too far away vediamo un po' quanto è il nostro clone arrange in questo momento è estremamente rosso però stiamo esplorando stiamo avanti avanti con le idee esplorative ho messo anche le protocardiche che ci dà un bonus con l'esplorative di avere con un range più 20% e Gobla 7 increase più 10% in teoria quando arriviamo a questo punto di bloccare entrambe le gruppe di idee dobbiamo già aver commentato che era ibi però nel frattempo provo a fare questo anche che le protocardiche sono delle idee ma provate che sono anche però abbastanza interessanti ho messo anche qualche privilegio dal borghesia per avere appunto più raggio coloniale e se ora non può esplorare anche se però purtroppo la nostra nave è stata distrutta cioè non è stata attaccata quella coloniale e ora sta qui e questo non possiamo fare granché quindi sono molto fortemente io così quasi guardate visto che siamo un po' in difficoltà e la papà adesso è un po' distratto io Tunisia ne ha 6 truppe 6.000 e Marocco ne ha 11 7 e qua 7.24 ne ha 24 io in questo momento ne ho 14 io ando a fare qualche debituccio rischiano di il default ma ma tutto questo per avere magari qualche steccito più grande sostanzioso qui mi costo 55 55 posso prendere questi due da 8 non è male con anche dei cannoni addirittura e io faccio non posso no no rezzo luca va via non li posso chiamare non posso fare niente c'è due canali qui e farli venire a me solo che Tunisia mi sta distruggendo quindi in pratica sono con queste armate ok ok posso anche almeno reclutare qualcuno dei miei qua vediamo un po' se mi fanno reclutare ovviamente no sono società conquistate ma niente vediamo un po' cosa succederà qua il porto ci blocca non ci posso credere senza Venezia siamo davvero senza non siamo davvero fregati quindi si ci non per scatole e neanche possiamo passare neanche possiamo passare dove la nostra flotta sta qui ok lo sono arrivando qui allora rientro a casa rientro a casa è possibile velocemente e invece abbiamo beccato che spiga però qui abbiamo vinto giusto ok almeno questo riusciamo ad andare almeno ecco riusciamo ad andare a meno HF allora evento terribile rivoluzione ci potete vedere o per dei soldi stabilità e avere una propria crescita in più ho nuove lezioni ho prestigio eh no no qua c'è il ripoto sargeno che non ci conviene purtroppo purtroppo non ci conviene però è fortuna è fortuna ci da passare qui a HF e tunisi sono un po' divisi almeno questo la nostra foto è stata distrutta dove sta stanno qui e le domenze distrutti io qui ho in pratica 15 navi no ora non è stretto ok che ci rompe l'alleanza no venezia perché volevamo se vene vene perché mi vuoi rompere l'alleanza da dal rivale chi è il tuo rivale è gli inglesi da tanti rivali ti metti gli inglesi metti anche il papato ci sta ma gli ottomani inglesi no dai però sono lì io ho bisogno di fare una cosa li andrò a distruggere niente venezia ci lascerà messa presto andiamo a distruggerli venite sono chiusi perfetto e allora finalmente ci siamo finiti questa guerra ho tutto un occhio che facciamo perché ormai i marocchini i turisti li abbiamo proprio distrutti ma ci avevamo Anfa e Garb per sicurezza per avere più provinci possibili e in caso poterci difendere c'è la cosa non sono ricche ma ci facciamo bastare send demand ok e tu mi remerai qui da questa parte mentre i tunisi ci danno molte terre io posso prendere Annaba Bizerte e Tunisi ok posso lasciare qualche provincia o rivendere posso chiedere le war rap i trade power e soldi aspettate un attimo sono tutti noi che provato è anche uscito dalla guerra quindi send demand perfetto ragazzi ci abbiamo fatta abbiamo messo anche Tunisi due rime di cantilismo che non fa mai male e a questo punto allora io posso mettere qui la capitale move the capital ok you can move the capital since it's not core ok mi farei core ovviamente noi faremo tutti i core eccezione di Tunisi che i ribelli è un libro di fortuna va bene ora calma 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 io come sono un pover ma posso abbassare il mantenimento delle rupe per il momento posso posso fare cos'altro posso abbassare anche l'inflazione posso fare qualche debito che mi dia tipo altri così qua posso esco a trovare tutti i debiti un po' se ci riusciamo eh quasi tutti no rimane con questi 3,50 allora tutti i debiti qualmente abbiamo tolto si il debito va a 0,10 centesimi vediamo 70 ma aspettate un attimo che si disistemi nel frattempo allora questa non mi cominciamo ma mi va qui mi sta a garb mentre l'esploratore dove sta tu protetrade di genova tu protetrade di tunisi che era il nostro e l'esploratore dove sta l'esploratore no manca una nave allora aspetta tu perdi il andiamo qui perché per esplorare deve avere almeno 3 caravelle diciamo quindi explore west african sea e tu mi ci potete da genova perfetto che devono essere nostri maggioranza trade troubles in tunisi ok considera gain implement claim sul nord marocco e delta va bene quindi abbiamo claim sul nord marocco e delta l'onorocco abbiamo già conquistato quindi è bene così possiamo fare la prima così è muovo il città prima tunisi e poi là però sinceramente abbiamo già appreso le città qui in marocco e ora quindi magari il nostro gobar rage vai qui riesci no perché mi conta la corsica per il momento mettiamo dei rivali che sono ovviamente lucca e tunisi che abbiamo distrutto con poi fortuna che abbiamo chiamato i mercenari nella terra dei conquisti da noi per fortuna guardiamo 1.50 ok non è malvagio come cosa voi siete ancora qui voi venite qua a casa ad anfa perché abbiamo qui anche i ribelli anzi no no una cosa 6.4 le bandene mi mandi qui a tunisi to be sure to be sure ok qui non posso fare niente perché in realtà sono arrabbiatissimi e beh ragazzi mi ho fatto il primo passo mi sono espandendo però non troppo per poter spostare la capitale tu intanto come stai messo vai vai a esplorare vai a not atlantic sea dai subiamo un po' l'america già l'abbiamo scoperta eh sì e non vedo tracce di nemici no qua c'è il portogallo già c'è il portogallo lì ma c'è la spettastra portogallo è sempre il portopollo che è una delle nazioni più forti ha un sacco di bonus per colonizzare perché non avete idea cioè io non sono degno di lei non sono degno di Portogallo tu della Crimea che non fai niente invece vai a Valenza che è il 5% Crimea aveva il 3% e vai qui trasferirei il papa e tu Genova e poi andiamo a ripostare la nostra capitale Genova non lascerò mai come capitale commerciale ma al suo tempo costruire questa nostra capitale da qualche altra parte qui mi hanno costruito già tutto va bene allora farmi i cori in questi territori Anfa potrebbe essere la nostra capitale così avere o vedere magari di mettere Harwin con la capitale direttamente così d'avere già il controllo di una città importante qui ci sono i portoghesi mentre a Capoverdi ci sono già i portoghesi i mortacci loro in Harwin poi magari proviamo ad andare qui in Sud America vediamo un poco vediamo un po' se ci riusciamo a spostarci però nel frattempo ragazzi le prime nostre importanti abbiamo fatte abbiamo questi territori che ci avvicinavano sempre di più al nuovo continente fatti i core fra i miei claim e vediamo un po' quanto mancherà per poterci esplorare ancora di più tu vai ancora a esplorare e spiego quando tu fischi l'esplorazione abbiamo fatto anche i core qui Marrakesh e Marocco li sta distruggendo e Marocco può essere abbastanza pericoloso se si ricostituisce ricostituisce devi stare molto attenti e allora abbiamo fatto i core abbiamo formato anche i vari ribelli e c'è un picco problema in pratica ci dice che posso spostare scusate un altro punto di dover esplorarmi in Nord Atlantic perché lì mi interessa ma lì ci posso spostare i territori la capitale in un fuori da nell'Oriro Empire quindi mi sa che dobbiamo per forza di cose e come si dice uscire da Sacro Impero ho fatto già anche un'alleanza però con il con la Francia quindi che se mai l'Austria ci vuole abbandonare che meninga e quindi ragazzi spiace per l'Austria ci vuole tanto prima leave the only Roman Empire bene tanto non ci ritrova quando ce l'ho attaccato e detto questo allora ci da qui ora è questo che mi per generare per Manclet su Ferrara ok non mi interessa però noi in te stesso spostare la capitale qui non si può ok qui nemmeno andiamo a buona no 30 l'est target 21 ok quindi per lo sviluppo in pratica dici questo deve essere meno 21 di sviluppo il genere è troppo sviluppata e quindi non è una buona facciamoci facciamo anche il coro ovviamente che ci vuole anche questo bisogna fare anche lo stato ok allora possiamo farlo vediamo se ce lo fa anche qui se magari sarebbe anche molto meglio aspettiamo che facciamo il coro che succederà se ci lascia e l'Austria ci lascerà such a terrible fate horrible fate ok tanti eventi negativi che non mancano mai quelle che me che ce la fa garba troppo non è stata potuta rendere core perché c'erano lo 3 squadre i ribelli al bang nel frattempo gli diamo un boost alla militare ma il power si quindi ho aspettato di fare qui il core di fare lo stato che mi intero questo che può stare la capitale ci vuole anche fare lo stato eccoci dai fammi il core 70 ci siamo e a questo punto si 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 move capital to anfa ragazzi è la prima mossa è stata fatta la capitale è la prima mossa verso la costa africana ho detto questo per vedere dove arriva il nostro range di condizioni qui ci arriverà qui ci arrivi anzi a fare così a tastoni scusa con il range ecco attenzione caraibi sand assolutamente da questo è caraibi quindi possiamo dire la nostra facciamo la nostra prima colonia andiamo magari qualche militare perché vedo che c'è un po' di problemi con il controllo quindi 4000 li porti qui per favore al tindad e tobago bellissima colonia bellissima una città bellissima tutto ok e il man però subito ok argwin è una città noi vogliamo un sacco di soldi che abbiamo anche il colonialismo e lo stiamo passando alla francia che ci dà 7.4 ducati in maggio dei nostri andiamo quasi 10 ducati che non è male e qui sono anche i great power noi siamo lì vicini a portogallo non so noi siamo in pratica quanto 5 province in italia 31 si e 2 qui in marocco e 38 tobago cioè vedete come giocando in italia ci entriamo molto sviluppo e giocando alti cioè trovando a ritupare le città più che fare guerra questo è il risultato non siete che non ho mai fatto questo due partite però dovrei dire che non mi sta dispiacendo io intanto ho il costituto la nostra prot quant'è bella e vediamo se ora arwin si può spostare per entrare capitale io ho messo qui anche ok lo fare è stato ok capisco capisco e arwin allora vediamo un po' se anche se sta già cara può diventare posso fare questo io spunto un po' uso un po' i punti amministrativi ne ho qui anche in guiana allora tinital sicuramente no ok one dead continent spero come idea ora dica questo che no oddio intanto arwin la portiamo qui va bene e arwin è la nostra capitale bene francia di chiamare in guerra contro bohemia austria si francese fanno sempre guerra e io qui andiamo smedisce capital o c'è la guerra però in teoria siamo ora qui arwin non può essere più facile arrivare io spero che non mi dia come continente non un poco continente lo geografico non mi puoi dire che oddio amazonia amazonia no davvero really cioè questo non è carabili ma amazonia ok io a questo punto mando qui mando qui me la rischio ragazzi ma che vada no aspetta rischio troppo che sia colombia questo facciamoci un'altra cosa recall no allora questo è un altro continente non c'entra niente quindi noi c'è subcontinente mi da questa amazonia e questo centro america questo giallo chiaro quindi devo andare qui a san vincent infatti qui mi da colombia che è carabili mentre si con niente problemi quindi mando lì questi quattro li mandiamo rapidamente qua per non che nessuno ci distrugge la frotta comunque se non hanno navi se hanno navi io veramente me ne andrei carica ok dammi un soldato che sarà il nostro Francesco Longo e facciamo guerra a Ferrara per esempio non posso a Ferrara ah quando è tu poi c'è Ferrara ne ha otto ok Polonia non penso che sia impossibile quindi se non ce ne andiamo più con Napoli eccoli c'è tanto spazio e tu mi attacchi a me giustamente non ce l'ho fatta salvarli moriranno no non ce ne andiamo magicamente cioè gli ha che fa ti va sui più debbo non va mai contro il tuo amico anche se il amico ti sta asserando la capitale tu puoi fermarli porresti no no ti dico no no vai a piedi più deboli punto basta questo è un obiettivo e cosa faremo cioè una cosa siamo anche in difficoltà attenzione questa Austria la Francia ha fatto il passo più lungo la gamba io qui sto anche sediando rischiando loro che vogliono PIA scusami Ammit addition va bene poi l'obiettivo di guerra Friburgo Friburgo è qua ok io l'assedio gliela passo e sparisco sparisco da piena loro sono bravi forti ce la fanno loro tanto mi assedia la mia capitale cioè veramente io a volte mi vengo davvero sbalordito tutti su di noi sono accanigliosi di noi perché non siamo più deboli e allora ragazzi tra una quella e l'altra riusciamo a sbloccare l'ultimo tac fotocratiche e mettiamo anche la policy con la range più 20% ora vediamo se questo ci potrà aiutare per spostare poi la capitale qui a San Vincent nel frattempo pensavo anche la possibilità di trasformare questa tinità e tobago in un'altra port se possibile così se volessi spostare la capitale qui a Rio Grande so qui posso farlo magari questo potrebbe essere un'ultima possibilità genoa crema of firenze e dami su firenze qui intanto oddio napoli è tutta toscana complimenti e se volessi fare guard allora non posso fare perché non c'è la france la stessa per tenere sia caccia che ungheria però qualcun altro vorrei portarmi se riesco magari a inghilterra chi manca su attitudine però già Bologna sarebbe per tenere accanto ma comunque ragazzi vediamo questa campagna diciamo che è un po' faticosa un po' rilento giocando vero molto poco espansivo di essere da di solito infatti siamo lì non lo so tutto siamo vicini a essere così una grande potenza sono stato anche molto vicini solo che diciamo conquistano poco sviluppano poco questo è ciò che succede però non mi sta dispiacendo questo divessimo di giocare a Europa di Starz oggi arrivare Tarragona voglio meccanere più successo e ne ho meccanere più di successo molto bene qui abbiamo il nostro nave che fa la pirateria sto provando a fare prova di pirateria diciamo e questa entrata ecco spoiler war brasil 044 mezzo zucato non fa mai male non fa mai male ok sbloccando la tecnica amministrativa 10 quindi abbiamo un altro gruppo da scegliere e qui io non so cosa puntare io devo puntare magari a queste amministrative che ha molti punti in plus e sono molto avanti e quindi prendere le expansion sarebbe male più che altro per i go passati in plus più 20% per avere anche due colori in più un mercante in più non sarebbe male questo protocollo visto che è a 7 di questo livello quindi in pratica 5 6 le affinite e se vi dico appunto questo è qua perché quando sposteremo se riusciamo a spostare il nostro capitale è lì nelle coloniali e vorrei risparmiare il più velociente possibile qui comandiamo a San Vincent ancora non è manca pochissimo ragazzi manca pochissimo io però sblocco il colono in più e questi qui possiamo andare a manare qualche parte non nel Carabio ovviamente potremmo mandarlo in Africa per cercare di magari vedere un po' di spai il nostro controllo qui se possiamo spostarci argomenti non basterebbe abbiamo una terra qui c'è anche qui mi sembra l'antena qui possiamo arrivarci aspetta una cosa in caso potremmo fare il giro da qua sotto queste isolette qua c'è l'argentino ovviamente subito scopo la rivolta e allora faccio una cosa carissimi tu mi fai non c'è più non attivi meglio così andiamo qui in Guinea a Befada sarà distrutta però nel frattempo vediamo un po' di riuscire oh attenzione attenzione la colonia è pronta è pronta la colonia ti prego dimmi posso mettere qui la capitale distante 70 70 io a questo punto posso fare una cosa qui riesco distante 39 ci mi dà anche distanza va bene se dovessi venire qui la capitale se qui è 39 la distanza l'antiacomo dovrebbe essere ancora più vicino non lo so non lo so non lo so sarà davvero difficile non so neanche se riuscire a portare qui la mia capitale a Sant'Ena sinceramente però ora ho due colonie c'è una Sant'Ena in onore del grande Napoleone che nascerà poi in corso che è una quella bafata vediamo se riusciamo a fare qualcosa andiamo a prendere i soldi e questa distanza è troppo grande la distanza è con il vento spegne i fuochi piccoli accende quelli grandi dice qualcuno no non è qui c'è anche il caffè per farla benissimo già viene alla città scusami non penso infatti però mi ha spoilerato cosa ci sia per stato lì quindi questa è una cosa molto buona ho fatto anche poi un'allenanza con l'Inghilterra ottima perché l'Inghilterra e la Francia sono arrivati a loro e hanno entrambi i miei amici Castiglia e Portogallo quindi averte due per fuori la guerra contro Castiglia e Portogallo potrebbe essere molto utile quindi lo sblocchiamo da militare perfetto bene siamo avanti con tutte in pratica quindi devo fare solo le idee e far crescere colonie diciamo la nostra città speriamo che riusciano prima o poi ad arrivare ai Caraibi ok ho fatto l'eroe banale ma posso spostare la mia capacità befata dopo che ho creato lo stato quindi befata 3 2 1 dai e siamo a befata ora qui io grande che mi dici we can move capita region ok prima prima della around quindi mi sa che io a parola faccio un po' di punti diplomatici anzi amministrativi scusate anzi dammi il bonus grazie noi usceremo per andare in Brasile già andare lì sarebbe fantastico ora abbiamo la nostra terra qui a befata vorremmo vorremmo anche riuscire qui pisa così quasi così così io mi conizzo qui so che conizzo qui il problema è possibile che magari dicano no ma hai troppe terre nella terra promessa non puoi andare lì cena queste mi rompesca facciamo qua il 13 crone va a chips quick c'è una storia importante mentre la cara pisa io già inizio andare la corsica pisa carissima tu mi hai avuto sempre bene non fare così non fare libri dei sai alto io ti voglio dare guarda la corsica la Francia è ancora in guerra siamo pia svizzero e non posso dargli lo sto no ho sbagliato dopo la posizione di io non sto mi ho attaccato è stato fantastico è stata bella la Modena qua c'è un corti prego Modena vai qui mamma mia ragazzi come potete capire la difficoltà di questo gioco mi stanno rivelando la sotamentale mo troppe cose vanno male troppe cose ha preso poi le mantu va maledetta comunque brava brava attacco qui Ferrara ma noi voglio essere più forti in teoria e se non ho più disciplina non mi avevo più morale ma hanno il bonus della terra hanno il vantaggio oddio mi sta distruggendo chi è la boemia la francia non c'è ovviamente e lo scappa grande boemia di mortacci su non so non so cos'altro vai attaccare la francia dai coraggio sei così tanto bravo ora io sono qui spero di poter dare più terre in colonie e così sperare sperare di riuscire in qualche modo a spero di riuscire in qualche modo a rifarmi io per stato educato al mese perché così tanto perdo guagno poco ovviamente negli stati guagno pochissimo quanto devo soffrire vai se mi sposto qui un poco lo sviluppo distanza corruption mi non se dopo la guerra mi dirà ancora il rancolo premio seppure riesco a spostare qui la capitale per esempio faccio crescere le mie province e le mie colonie magari così do più potere ah non voglio le radici ecco perdiamo le radici iniziamo a prepararci per così dire al futuro davo un po di power yes ok qui la guerra sta andando sempre la spizza che mi chiama ah ora sono qui quindi posso andare tranquillamente a occuparmi delle varie province pisa non so che si trova l'altro mattino nel mondo grande pisa ti voglio bene pisa anche se mi tratti male pisa non ti voglio bene qui dai solo 12 per il momento e noi guadagniamo soldi ora o li perdiamo li guadagniamo li perdiamo li guadagniamo li perdiamo è bellissimo sta cosa abbiamo quoto parma qui il papato sotto attacco del napoli che l'ha scomunicato a cerotto attacco napoli che poi fa la voce grossa grande napoli l'ha tutta pisa o colonia fatta a rono anche andiamo sempre qui nell'entroterra c'è nella costa del tre ciclonia va c'è anche un passaggio dove avere vai vediamo un po' se mi fa andare qui eh sì mi fa andare qui è meraviglioso ho un pezzo di terra un piccolo baglia la baglia di chips quic c'è una possibilità di difendermi almeno questo questo è lì a sediare chiedeci ad attaccare l'austra di nuovo la scissera qui con la bohemia sta brava bohemia ma va attaccare nella sua difficoltà la francia brava bohemia grande bohemia però noi sono qui che è meglio mi sa che sono qui tranquilli fatti nostri meglio così ma c'è la georgia del sud non so perché non fanno andare qui forse c'è un motivo che eh vediamo un po' se il problema è questa città qui che rompe le scalatinità ti rendo una città predensitica però sarà mia ovviamente tiè fino a se ora no non accetterà cioè non c'è questa cosa della headland io non capisco comunque andiamo qui la capitale piano piano c'è veramente la georgia e il sud nel nostro territorio perfetto qui abbiamo anche un nuovo tier di governo ha mettato quello lì che avevo prima mi sembra e sta il mantenimento come capacity union of states va di fare di questo fare di questo per fare meno un po' i stati mentre ho fatto anche la correzione controlla poi spero di non pentirmi perché è possibile che magari mi dice ah sei così allora io vi faccio la guerra ok telefono pure fatta vediamo se ora finalmente riusciamo a distanza il target 48 allora c'è uno status scusate che dimentico sempre poi deve essere almeno 12 e push un poco anche un po' di questo ok di che mondo capitano regio ok sembri proprio della terra quindi a questo punto io vado a fare una cosetta tranquillo questa città di anfa allora basta mi voglio distruggere proprio voglio distruggere tutto il mio grande impero così o la va o la spacca ragazzi posso lasciare lucca qui non posso lasciare nessuno qui non lasciamo la tunisi tunisi dai allora grant province non possiamo andare in provincia che bello assunta a pisa invece possono lasciare in provincia pisa grant province lucca ok grant province albenga e grant province genova mi sto distruggendo le terre di casa con il rischio che pisa ora va a 2% ma posso che presto mi odierà mentre qui come andiamo ancora etland ora mi dice che è lafica magari e allora faccio una cosa qui o mi sto proprio rovinando 3 siti anfa e poi faremo un'alleanza con anfa cioè bisogno di tutto per cercare di creare qualcosa ma non ci riesco non ci riesco io non so che dirvi tu fai l'alleanza qui magari se è possibile non diplomatici pisa ti sei avuto tanto bene ma adesso fuori dai mamma 70 ma è che c'ho la capitale in georgia del sud cioè davvero impressionante cosa devo fare io cosa debbo fare per poter spostare la capitale da terra del sud qui cioè da georgia del sud alla terra del fuego perché 48 patagonia cioè io non ho più terre a casa non c'ho più niente non ho più niente pisa sarà più forte di me tra un poco e mi rompe la scatola dicendomi ah io sono più forte perché mi dai no non ti do niente faccia di serpente comunque qui anfa fare l'alleanza geber mi sembra più deboli anfa che era molto sviluppata eracica 30 38 forse renda 7 infatti questo è 16 argwin 12 dai non puoi dimmi che in teoria subcontinente a parte la mappa geografica subcontinente questa è Leande io Leande ho solo due province mi cerco da questi problemi delle Leande non penso che ho visto molti fare questa mossa dalla Giorgio Dandelli perché we cannot move our capital to a colonial region not while we still have a big headland around it cioè attorno a quella capitale c'è una grande terra ma mi dici che senso ha non sto capendo ragazzi davvero voglio andare a vivere qui io vado a rilasciare così quasi una provincia io soffrono anche un'altra colonna qui in America vai anche qua vai anche in australia non c'entra la mazza ma voglio andare in australia non mi fa andare ok troppo distante mi dice posso andare a Nuova Zelanda vai 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 e divertiti cioè a questo punto io non ho più niente ho tutta la pisa e in teoria sposata capitale dovrei avere solo una provincia mi sembra in una regione se mi dici che questo problema è la San Giorgio del Sud che è la mia capitale cioè non sto capendo ragazzi aiutatemi io stacco qui questo video sto avendo mille problemi lo farò uscire prima possibile anzi chiedo scusa a Garron se il video è uscito molto più tardi quanto mi ha fatto richiesta perché ho provato a farlo prima ma ho fallito lo rifaccio ora sto fallendo ancora una volta quindi io sto impazzendo nel poter spostare in Colonial Region il mio la mia la cara capitale ma anche solo a questo punto andare io sono già in una colonia sono già qui scusami scusami Giordia del Sud e South Atlantic sono già coloniali quindi perché mi prendi per i fondemici no che qui c'è una colonial region sono già un territorio coloniale fammi vedere una cosa state over state colonial io sono già c'è questo cos'è la Georgia del Sud non è colonia vuoi dirmi davvero questo si è grigio come loro no no e non è compresa come colonia io non ci posso credere non è compresa come colonia io non ci posso credere ma che senso ha che non mi dà la colonia è lì c'è questo sotto l'epifero le Falkland potevo andare magari le Falkland mi dice no c'è purtroppo la città ma il problema non è tanto la distanza che senza qui anche prima ho avuto distanza però appena ho fatto lo Stato la distanza non è più un problema quindi appena non è lo Stato cioè la distanza in sé ma in quanto rompe il fatto che dobbiamo andare in un territorio coloniale che non posso andare perché sono qui sono stato qui qui non mi piace andare ho troppa terra ma io non c'ho niente non c'ho una mazza allora facciamo guarda ultima prova economic sell province ti do anche questa ti chiedo almeno soli possibili dal regalo neanche poi è regalata che bello intanto io vado al Marocco Marocco carissimo rivali non c'è tra mai cosa che lo siamo rivali Castiglia non siamo rivali Castiglia del Piflor non accetterebbe questa e questa si Arwin si faccio una cosa 120 almeno confermiamo e Arwin l'ho venduta ecco il vostro se non si capisce cioè ora io nella mia terra natale come dice lui ho solo no ho solo il Giorgio del Sud ho Sant'Ena ho questa isola questa provincia qui e basta poi con la range non c'è poi c'ho qual c'ho qui niente non c'ho più niente di mio che pazzia ragazzi io non so che a Diff aiutate se vedete voi in questa sfida riuscirò in qualche modo andò qui molto anche l'asperatore andrà Bracelli che è un 6 4 4 2 mazza che 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 generale miglioravamo un poco ma c'è strano di tutto per cercare di risolvere questo problema poter formare la connecola caraibica io ho visto anche qualche dubbio che l'ha fatto partendo dalle isole indonesiane ci ha messo molto meno tempo e molto in difficoltà di me che sono qui ci sono già arrivato sono qui alle porte del nuovo continente ho fatto ciò che potevo pensavo fosse avere la tua provincia non è questo il problema avere la tua provincia è che qui ne ho una non mi fa andare c'è qui ne ho una San Vincenzo mi dai we cannot move our capital to a colonial region quindi possiamo muovere la tua capital nella regione non finché not while we still have a big headland around it only when our capital is the only province in a state on a that content with possible cioè io non questo è che nel continente il continente io non lo vedo il sub continente è così qui vedete America centrale che non ho niente ho solo questo quindi perché mi ha problemi o perché allora mi dice will it's allora capital is the only province when our capital is the only province in state in a state of that continent io sono l'unico nello stato del with road sono l'unico a stare qui sono l'unico quello che meno che fanno soldi chi ha la boe ma la mia pisa ragazzi non so più che dire ho provato a capire il problema ma il problema ho perso anche la mia genova pur di avere qui la capitale sto impazzendo letteralmente la pisa vorrebbe anche odiarmi perché davvero ha molta più potenza di me molta più potenza di me faccio l'altro ducati che perverò intanto questo perché mi paga anche poco però capite c'è davvero è una cosa assurda il fatto che io abbia davvero lasciato tutto e ho allora mi dice queste cose devo essere non possibile fare una capitale finché non c'è big earthland around it c'è un cresco in questo senso big earthland around it big grande earthland composto per essere terra cuore di terra cioè il cuore attorno a questo stato c'è around san vincenzo ora io sto a san vincenzo only when our country is the only province in a state io ho l'unica città in quello stato e san vincenzo nel continente della megacentrale cioè in quello stato l'unica città basta non perdiamo città tempo ragazzi io finisco qui questo episodio così con un fallimento sono uscito a creare una colonia caraibica qui magari avendo Tunis dovevo fare i pirati e poi andamene qua ma io volevo farlo la colonia caraibica qui c'è una colonia pirata qui quindi youtube ha fatto la colonia caraibica però dalla sua terra natale che è indonesia io voglio provarci dall'america perché è possibile fare questo ma a quanto pare questo grande problema della della di spostare qui davvero non lo capisco la lista mi dà distanza sì io proprio andare qui mi dà ancora distanza distanza che non sembra essere un po' breve perché per spostarci qui alla Georgia del Sud non mi ha fatto problemi anche se c'è la distanza mi lavo bene le distanze io ho qui Santena sposto la capitela Santena sposto la capitela sposto la capitela qui a sera vede ora qui non mi fa fare distanza 61 io sposto i punti diplomatici sposto la capitela qui sono proprio a due passi sono a due passi mi c'è 36 movie ok però c'è sempre il problema che deve essere il miglior stato in quello subcontinente e lo so è che questa è la plata questa è cioè la colonia regionale questa è sud come continente ma come colonia questa è la plata questa è Brasile questa è la Carabie sono proprio distinti sto impazzendo comunque abbiamo qui questo episodio con un fallimento io spero che il video vi sia piaciuto o almeno provate un po' di pena per me che davvero sto impazzendo cercare di creare questa colonia io a volte è un problema di size 4 si ho giocato tantissima di mostri di non conoscere tutte le meccaniche di gioco come qualcun altro è molto rispetto di me se c'è qualcuno che è più rispetto di me mi aiuti e favore qualche consiglio mi rispondo a questo quesito del Heartland Being Around Hit ma anche a caso vi lascia un like a commentare e di la vostra come datemi un consiglio che fate fatto iscrivete al canale e attivate la campanellina c'è notifiche dei nuovi video che usciranno seguiti sui vari social come facebook discord instagram e tiktok così per salvare di più sul lavoro con altri contenuti molti di offerti e partecipare attiva vita al canale al community tra sondaggi richieste discussioni c'è anche la possibilità se volete per salvare il mio lavoro e rendere gli appoggiamenti con youtube o la parola maggior pan se avete i vantaggi badge emoji video potete vedere prima che siete dedicati alle abbonate e quant'altro c'è anche la possibilità di dare le abbonate con tgprime dove seguimi e dove saprottarmi il lavoro ultimissima cosa c'è in descrizione il link ed affidazione di stand gaming con il quale voi potete acquistare un gioco nel sito di stand gaming e saprottate il mio link e aiutatemi il canale in meia diretta senza uscire una lira che è una cosa buona e giusta ragazzi però ci vediamo in un prossimo episodio dal prossimo interno stanco te la mette passo e chiudo ciao 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 ciao